Cambio al vertice della 6 giorni delle rose dopo la seconda serata. Michele Scartezzini e Davide Plebani, coppia del salumificio La Rocca, vestono ora la maglia bianca Sider Pighi di leader della classifica generale, essendo l'unica coppia a giri pieni insieme agli ucraini Riniv e Gladysh del Rintoccovini. Le due coppie sono state protagoniste di una grande azione nell'americana finale sui 100 giri, con un attacco a cavallo di metà gara che ha permesso loro di guadagnare il giro con i due italiani che alla fine hanno vinto la prova con 20 punti e ora guidano la generale a quota 46, 30 in più degli ucraini. La coppia Bertazzo e Lamont della Rossetti Market occupa ora la terza posizione con 36 punti e un giro di ritardo, ma si sono consolati con un'altra vittoria nel giro lanciato con il tempo di 21 secondi e 7 centesimi davanti ai fratelli Christos e Zaferi Svoleakis della Pavi Nord e ai polacchi Prokospin e Zlavek della Alu Tecno. Per quanto riguarda le gare di classe 1 UCI che segnano punti validi per la qualificazione a Mondiale Olimpiadi, podio stellare nella Madison femminile con le britanniche Katie Archibald e l'Eleanor Becker, 28 punti, che hanno preceduto due coppie italiane. Secondo posto per Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo a 20 punti, terzo per Maria Giulia Confalonieri e Vittoria Guazzini a 17, autrici di un coraggioso attacco poco dopo metà gara. 50 i giri complessivi. Vittoria Azzura invece nell'inseguimento individuale under 23 di classe 1 con il friulano Jonathan Milan che nella finale per l'oro ha battuto il polacco Simon Kratzik, Polonia che si è presa anche il terzo posto con Damian Slavek.